Buongiorno amici di Space Viola, eccoci qua con sueto appuntamento top e flop di Fiorentina Udinese vi invito subito a seguire questa community di Space Viola che cresce sempre di più e se vi va ragazzi come sempre seguite anche me Andrea Marino, Mister Viola mi trovate nei principali social come ovviamente gli amici di Space Viola Fiorentina Udinese, la Fiorentina vince 2-0, fa le prove ovviamente per giovedì partita fondamentale, quella in casa del Basilea in Svizzera perché partiamo su un 2-1, ieri la Fiorentina gioca una partita particolarmente furba quasi cinica se vogliamo, dosa le forze, non si mette troppo a giocare in alto quindi non dà modo all'Udinese di arrivare a fare questi contropedi pericolosi secondo me una scelta tattica che Vincenzo Italiano ha voluto mettere proprio perché comunque ha cambiato tantissimi giocatori per quanto riguarda ovviamente la sfida di giovedì scorso quindi insomma hanno giocato un po' le secondeline ma queste secondeline non hanno fatto male 2-0 i flop, flop non ne trovo veramente da dire giocatori insufficienti però quei giocatori che ancora non mi danno quella sensazione di dire ti do il 6 più pieno quindi diciamo una sofficienza scarna, Icone gioca a intermittenza Venuti qualche rischio di troppo e qualche ovviamente anche scelta di tempo e tecnica sbagliata e baracla nel mezzo insomma fa un po' di fatica devo dire la verità per quanto riguarda invece i top fatemi dare il top a Castrovilli autore del gol dell'1-0 bella partita fatta ieri dal nostro numero 10 perdonatemi insomma Castrovilli che ovviamente lo attendiamo nel suo miglior momento di forma l'altro top lo voglio dare a Jack Bonaventura che subentra in bambro alla difesa avversaria segnando un bel gol peccato per l'espulsione a fine partita in quella confusione con Becao e poi l'altro top ragazzi lo voglio dare a Duncan perché a me ieri sinceramente Duncan mi è piaciuto tanto credo che Duncan si sia ritrovato è un'arma in più per questo per giovedì perché ha detto italiano giocheranno i migliori in questo momento credo che giocatori come Bonaventura e Duncan in questo momento siano giocatori più in forma rispetto magari ai Mandragola e ai Barac visti ultimamente voglio fare una menzione di merito a Brecalo proprio per il virtù del fatto che ieri mi è piaciuto molto propositivo salta l'uomo purtroppo terzo palo con la maglia della Fiorentina nelle sue apparizioni un po' sfortunato speriamo ovviamente si possa sbloccare però potrebbe essere una frecce in più all'arco proprio per giovedì cala un po' nel secondo tempo come tutta la Fiorentina perché comunque nel secondo tempo la Fiorentina è calata vistosamente questa è una cosa che Vincente Oliano dovrà ovviamente recuperare perché giovedì non possiamo avere cali di attenzione e cali di prestazioni giocheranno i migliori giovedì è una battaglia ieri un 2-0 che fa morale quindi adesso ovviamente testa al Basilea per scrivere la storia seguite gli amici di Space Viola e seguite me Andrea Marino, Mister Viola ciao